E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su AfterserieCripto io sono Emiliano e anche oggi trovo il nostro consueto Morning with Crypto l'appuntamento che ci accompagna dal lunedì al venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo la notte andremo a commentare quello che è stato un Black Friday e soprattutto poi un weekend di consolidamento su questi livelli ma andremo a osservare delle metriche importantissime per capire come si sta muovendo sottofondo diciamo quella che è il l'economia globale e quella che è la liquidità che potrebbe arrivare o meno nel settore appunto crypto ma anche nel settore tradizionale insomma come sempre un sacco di cose di cui parlare come sempre vi ricordo di lasciare un like un'iscrizione al canale se siete nuovi aiuta tanto lo sapete con l'algoritmo e aiuta a sostenere il canale date anche un'occhiata ai link che trovate qua sotto in iscrizione con le principali promo del settore e con gli sconti più elevati grazie al vostro supporto sui servizi che utilizziamo anche noi personalmente detto questo ragazzi partiamo perché abbiamo un sacco di cose da dire partirei proprio con questo grafico questo grafico qui va a racchiudere insomma quella che è la global liquidity ok va a sommare un po' tutte quelle che sono le currency più importanti e va a determinare quello che è appunto un livello di liquidità ebbene ne avevamo già parlato precedentemente di come appunto stia aumentando questo valore ed è andato in all time I e questa cosa qua è importante perché? perché ricordatevi che i mercati tutti ok si muovono anche sulla base della liquidità la rimozione di liquidità non aiuta i mercati ma tende a metterli in situazioni sfavorevoli in questo caso è tornata liquidità si andrà verso una nuova fase di iniezione di liquidità proprio dovuta anche alla diminuzione di tasse di interesse che ormai è stata annunciata da Powell e che in questo mese appunto vedremo se sarà di 25 punti base di 50 punti base ma bene insomma tutto questo perché va in una certa direzione è ovvio che non è che perché c'è liquidità allora moon ma sicuramente è uno degli elementi cardine per poter proseguire in una corsa rialzo soprattutto perché la liquidità ripeto aumenta l'interesse soprattutto per gli asset rischiosi rispetto agli asset considerati diciamo safe haven oppure i no risk come appunto i da libro di testo poi sapete che il rischio c'è sempre ma i titoli statali insomma da un punto di vista di bond eccetera eccetera un'altra cosa importante è questo altro indice che è il bitcoin smart money index semplicemente va a tracciare quello che sono gli investitori diciamo considerati large quindi non pesci piccoli di come stanno andando ad accumulare chi sta andando a accumulare bene in realtà lo vedete molto elevato nonostante a questa a questo livello di prezzo insomma si trova i bitcoin e è una testimonianza del fatto che ci sia interesse soprattutto istituzionale all'interno dell'asset questo perché appunto indirizzi di ampia dimensione stanno andando ad accumulare questo è un comportamento diciamo abbastanza comune che notiamo all'interno di questo settore per chi è dentro da un po di tempo ormai lo ha capito e sa che sono situazioni che spesso determinano poi un cambiamento di mercato lo vediamo tra poco perché prima volevo farvi vedere appunto quelli che sono anche i flow degli etf a testimonianza del fatto che da fine agosto c'è stato questo outflow un po continuo black rock a parte la giornata del 29 di agosto che ha avuto un outflow poi non ha più accumulato e vediamo soprattutto scaricare non tanto grayscale che ormai diciamo che il suo lo sta facendo lo continua a fare fino a quando sarà praticamente irrilevante ma soprattutto fidelity e lo abbiamo visto anche nei dati appunto di deposito sugli exchange da parte di questo fondo che è andato a scaricare sicuramente di più ma appunto vedremo i dati poi aggiornati soprattutto come andrà questa questa settimana in ogni caso c'è stato questo outflow di circa 5 600 700 milioni di dollari nell'ultima settimana qualcosina prima ma ripeto rimane molto ampio quello che è il discorso della giacenza etf ripeto anche guardate sempre lo zoom out e sappiate gli etf sono prodotti flessibili quindi di base i trend vanno valutati nel giro di almeno 2-3 mesi per andare a capire dove si sta andando così come abbiamo fatto nella sezione precedente di crescita abbiamo visto di valutarli nel tempo la cosa che vi dicevo prima è questa cioè nel senso per chi è nel settore da da un po' di tempo lo sa che è un mercato estremamente emotivo ok e solitamente quando si trova nelle zone di paura come adesso è il momento migliore ok per andare soprattutto non tanto a comprare lo sapete non sono quello che vi dice compra vendi fai la sfera di cristallo ma per interessarsi al settore perché solitamente è lì che si trovano le maggiori situazioni interessanti e soprattutto si ha più tempo più tempo per valutare correttamente un potenziale una potenziale cripto una potenziale un potenziale progetto quindi ricordatevi sempre che in questi momenti storici sono i momenti migliori davvero non ho mai visto nessuno andare a tra virgolette arricchirsi passatemi il termine in un momento di euforia quasi mai perché sono i momenti dove si compri magari qualcosa il prezzo continua a salire ma poi te lo riprendi anche tutto indietro perché non sai cosa stai facendo e non hai una minima base del perché lo stai comprando stai comprando solo perché sale quindi dove ci troviamo oggi? ci troviamo in una condizione di paura appunto non è inutile andare avanti insomma a leggere questo dato soprattutto mi interessa vederlo di come è andato l'ultimo mese sempre nella zona di paura l'ultima settimana sempre nella zona di paura ieri e oggi aveva sempre paura e soprattutto un valore molto basso quindi staremo a vedere se appunto questa profezia si continuerà ad avverare e tra poco andiamo sulle chart a vedere che cosa sta accadendo prima però vi ricordo PrimeXBT che è una piattaforma che dovrebbe essere disponibile anche in Italia data un'occhiata altrimenti appunto è destinata all'estero ma soprattutto vi permette di se vi siete interessati di fare appunto trading acquistando cripto sia con carta di credito e soprattutto anche dentro sia il forex che anche la finanza tradizionale con base bitcoin quindi potete andare veramente a sbizzarrirvi ha un'app molto molto carina ok quindi se vi interessa trovate qua sotto il link che vi da lo sconto fee per sempre soprattutto vi lascio un codice da 50 dollari che se fate l'account appunto con il link e lo andate a inserire è solo per una persona quindi il dito più veloce premiamo sempre i top diciamo supporters del morning with crypto lo inserite avete 50 dollari e ve li fate come volete ovviamente non potete ritirarli ma tutti i profit che fate potete ritirarli potete usarli senza limiti di leva quindi potete sbizzarrirvi di fare i vostri gambler che avete sempre sognato a rischio zero insomma se volete scherzo insomma fate come ciò vi aggrada in ogni caso trovate qua sotto in descrizione andiamo a vedere quelli che sono i gainers invece degli 24 ore troviamo btorrent che fa un più 16% quantum un più 8, phantom un più 7, cash un più 6, toncoin un più 4, bitensor un più 4, cosmos un più 4 un po' di respiro per alcuni altcoin, losers ne abbiamo comunque, sats un meno 7, starknet un meno 4, lightcoin un meno 2, binary un meno 2, monero un meno 2, maker un meno 1 insomma in ogni caso è stato un weekend abbastanza tranquillo nel senso che siamo andati lo vedete a fare due giornate ops sto spostando tutte le mie linee in verde abbiamo fatto sia sabato che domenica e dobbiamo cercare l'obiettivo è uno ragazzi ve lo dico molto chiaramente dobbiamo cercare di fare una move molto simile a questa qui abbiamo avuto questo shake questo reset di mercato per poi andare a mettere un 30% è questo l'obiettivo la formazione, la conformazione è abbastanza simile perché abbiamo avuto questo diciamo crash che ha portato il prezzo velocemente a droppare fino a un minimo di 52,4 con appunto dei volumi un pochettino più alti dei precedenti come avete qui ovvio questo è proprio una master io ve l'avevo già detto precedentemente come questo al 90% fosse una diciamo una week di inversione proprio perché la domanda si era palesata e aveva costruito una candela molto interessante speriamo lo faccia anche qui in ogni caso i volumi non sono elevatissimi abbiamo le stesse tipologie di conferme che abbiamo precedentemente ma vediamo un po' come apre questa giornata la cosa più importante è evitare le bear flag che è evitare questa roba qua cioè fare questi drop, fare questo e proseguire a ribasso per evitare ciò dobbiamo vedere una bella spinta del prezzo che porti a contatto soprattutto con un primo livello dei 56,6 che sarebbe la 12 ema in questo momento o aspettare insomma che ci arrivi e vedere come va a reagire quando arriva a contatto qua se non vediamo forza, non vediamo volumi in rottura è chiaro che la probabilità di proseguire a ribasso e fare una cosa di questo genere è più elevata o almeno un ritest soprattutto di queste zone di liquidità quindi per chi si suppone sia principalmente bearish in questo momento un bello shortino in questa zona qua fa più che bene insomma da valutare ovviamente fatte con la vostra testa io vi dico sempre queste cose ma lo ripeto perché so che tanti sono nuovi quindi non fate copia e incolla, stiamo analizzando insieme in ogni caso appunto uno shortino qui è quello che appunto dovreste andare potenzialmente a valutare se siete bearish se siete invece bullish è chiaro che magari aspetterei un attimino di consolidamento qua sopra dovrò vedere il prezzo che ha voglia di rompere queste aree qui che è la prima media mobile appunto a 12 che ci ha ribattuto vedete ben bene precedentemente nei giorni fa qualche giorno fa quindi appunto è un primo segnale di potenziale inversione e di scongiuro di bear flag però per il momento appunto questa è la situazione su Ethereum invece devo fare un piccolo approfondimento perché è interessante secondo me quello che sta accadendo a livello proprio macro perché a livello daily vedete come ci sia questa trend line che ci portiamo avanti dal 22 da giugno 22 dove ha trovato il suo bottom pensate a 913 dollari e da lì appunto è rincominciato questo uptrend bene in realtà questi sono diversi punti di contatto e potenzialmente potrebbe essere buono e interessante proprio questa zona qua dei 2000 dollari che diventerebbe una dei test più appunto elevati di questa trend line potrebbe tranquillamente frontrannarla probabilmente anche come ha fatto qui però diciamo che questa zona di liquidità che abbiamo già segnalato precedentemente più questa trend line potrebbe determinare un potenziale anche bottom di Ethereum quindi i miei ordini potenzialmente li andrei a piazzare in queste zone qui non perfettamente ragazzi sulle trend line mi raccomando usatele alla perfezione ma usatele come riferimento eventualmente quindi tutte queste zone qua sopra sono tutte siccome molto interessanti a risk reward non significa che andranno moon non significa che farete i soldi sicuri ma significa appunto approfondite con la vostra testa e capite se l'analisi coincide potenzialmente con la vostra quindi dategli un'occhiata secondo me può essere una cosa interessante da osservare ultimissima cosa anche sto andando lunghissimo stamattina dominance che tende leggermente a collassare diciamo a breve nella daily ma in ogni caso vedremo se continuerà a ribasso si trova in livello 50 su 50 e ma da un bel po' che non la testava praticamente da luglio e vediamo se appunto avrà maggiore spazio o qualcosina in più al coin detto ciao ragazzi mi fermo fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto i commenti ditemi la vostra vi ricordo i link che trovate in questa descrizione che aiutano il canale sostenere se vi danno i sconti più elevati del settore noi ci vediamo prestissimo con un prossimo video ciao a tutti ragazzi